Marco Colavita, ti posso chiamare Marcolino. Partita eccezionale, disputato, hai provato anche la via del gol, sei stato sfortunato, però alla fine un Termoli che ha giocato veramente con il cuore contro un avversario di tutto rispetto, il Celano, che è arrivato secondo in classifica. Sì, comunque il primo tempo abbiamo concesso poco, le occasioni per loro sono state pochissime e comunque il primo tempo abbiamo creato anche noi le nostre occasioni, solo che il secondo tempo comunque dopo l'espulsione pensavamo di giocare peggio ma comunque ce la siamo cavata e gli ultimi 25-30 minuti abbiamo giocato davvero bene e abbiamo concesso poco. Oddio, poco manco tanto perché comunque le occasioni dalla parte loro sono arrivate con qualche tiro in bordo che il portiere nostro, Ferruccio, ha parlato molto bene e ha giocato davvero un'ottima partita. Senti, un campionato importante per te, superlativa comunque la stagione perché sei voluto rimanere al Termoli con la Juniors, avevi avuto anche richiesta di eccellenza e promozione, alla fine oltre alla convocazione in prima squadra è arrivata anche la chiamata per quanto riguarda la rappresentativa del Girona. Beh sì, sono stato molto contento per la convocazione in prima squadra perché per un 97 andare a giocare con quelli più grandi è un'emozione grandissima perché comunque è una cosa importante vedersi con delle persone molto più grandi, con esperienza. Comunque sì, sono voluto rimanere a Termoli perché ho dato fiducia alla società, alla squadra, abbiamo creato un gruppo davvero bello. Sono stato contento di avere persone accanto così brave, simpatiche, soprattutto abbiamo creato davvero un bel gruppo, sono davvero contento. Paolo Pilone, uno dei migliori, sempre in campo, veramente rispondi alla grande e ad ogni chiamata, alla fine è arrivata anche una chiamata importante, quella della rappresentativa, un segnale di chi ha lavorato tanto e bene in questo campionato, alla fine si è stato premiato. Sì, è stato un anno molto impegnativo, soprattutto il mister mi metteva sempre a fare tecnica, tattica individuale, tutto perché credeva e quindi alla fine tutti gli sforzi sono stati ripagati. Senti, è arrivata questa sconfitta con il Celano, alla fine ci può stare, rimane il bel campionato che avete disputato. Bello, però poteva andare meglio per tutti i fatti che sono avvenuti, tutte le cose, un po' di disastri. Certo, ma per quanto riguarda voi ragazzi invece il fatto che siete stati aggregati in prima squadra vi ha fatto anche crescere a livello di esperienza. Sì, quello senz'altro, è stata comunque una bella esperienza vedere allenamenti di Serie D, stare a contatto con giocatori di un certo livello, quindi comunque è un'esperienza che fanno crescere. Senti, adesso tu sei in prima squadra, in pianta stabile, comunque vieni spesso convocato, valuterai questa opzione e la possibilità di poter giocare con la rappresentativa, insomma il futuro è dalla tua parte. Speriamo che vada tutto bene, soprattutto con la rappresentativa.